Ciao, ancora un video di ricordi dell'infanzia, della gioventù con lo sfondo del ciccio. Ricordo sempre, come ho fatto prima, tutte le cose che mi hanno insegnato i miei genitori, che mi hanno trasmesso facendomi fare una marea di gite, di luoghi che abbia visitato, luoghi di divertimento, luoghi di sport, luoghi di cultura. Di svargo, di tutto, di tutto. Mi hanno portato ovunque fosse umanamente possibile. Quindi, poi dopo, alcune cose le ho coltivate per conto mio e mi sono appassionato. Quando è giunto il momento di prendere il diploma, come si chiama? La maturità che io avevo un anno avanti rispetto ai miei compagni, perché sono nato a febbraio e loro mi hanno portato a scuola a cinque anni e mezzo, anziché a sei e mezzo. Secondo me è sbagliato quello, perché sono sempre stato un po' più bimbo rispetto agli altri. Poi, per carità, mi sono svegliato su, ma anticipare i tempi non so se sia giusto. Comunque, a parte questo, a diciotto anni e qualcosa, i miei hanno detto, se vuoi andare all'università, anzi, era quasi scontato che dovessi andarci, no? Mia mamma con due lauree e con 110 donne. Mio papà ha lavorato. Mio fratello aveva cominciato a studiare in medicina, prima o poi si sarebbe lavorato. Tutti i cugini, tranne uno, studiavano per lavorarsi e ti pare che io non lo faccia? Ma certo. Poi a me piaceva il lavoro di mio papà, ingegnere. Sono sempre stato un po' meccanico come idea, un po' scientifico, un po' meno umanistico e più tecnico. Per cui abbiamo detto, mi scrivo a ingegneria. E mi scrivo a ingegneria, c'erano un paio di possibilità. Una era a Milano, al Politecnico. Una era al Politecnico di Torino. Calcola che noi stavamo a Biella, quindi ero in Piemonte, 100 km da Milano, 70 da Torino. E poi c'era una terza possibilità. Allora, calcola anche che Milano non era un bel periodo. Ti parlo di, quando ero 18 anni, del 76, 77, in quegli anni lì non era il massimo. Era molto politicizzata, c'erano gruppi anarchici che si scontravano con i fascisti, i neofascisti. Non era bello vivere in quel periodo. Poi noi, che ormai non eravamo più cittadini, ma eravamo confinati nel lager di Biella e c'eravamo anche abituati a quel mondo fatto di bambagia, dove non succedeva niente, delinquenza zero. Mandare tuo figlio a Milano, proprio in quel momento, anche se era il luogo di origine da cui venivamo, non era bello. Torino a me non è mai piaciuta, non mi piacera mai. La trovo molto fredda, ancora adesso non mi piace, se mi capita di andarci, non ci vado volentieri. Torino non mi piace, non mi è mai piaciuta. Una città troppo di immigrazione, i piemontesi non mi sono mai piaciuti più di tanto. Mi spiace, ma a me Torino non mi piace. Quindi io l'avevo sclusa. E non è che c'era molto a disposizione, c'erano le zie. Avevamo due zie che stavano a Genova. E a Genova c'è una zia, poi con sua mamma, che anche io chiamavo zia, e con suo marito. Io li chiamavo tutti zii, poi non ho mai capito se ci fosse tutta questa parentela. Insomma, due signori e un uomo, già anziano, che avevano una casa a Genova. A Genova c'è ingegneria. E loro i miei hanno telefonato, le zie hanno detto, ma sentite, ma se vi mandiamo giù il ciccio, a voi darebbe fastidio, facciamo una prova. Figurati, hanno detto, sì, mandacelo giù. Io poi li avevo visti un paio di volte solo, no? Ma sì, a me piacevano. Poi l'idea comunque di non andare a Torino, perché Milano era quasi esclusa, era un passo importante. E poi andavo fuori dalle palle. Cioè, non ero sotto il cofano di mia mamma, che veramente le ho avuto un bene nell'anima, però mi ha sempre soffocato un po', voleva fare la mamma a chioccia. Io, andare fuori dalle scatole, voleva dire, cambio giurisdizione. Dipendo dalla provincia della zia, anziché dalla provincia della mamma. E quindi quando mi hanno detto, ma ti piacerebbe? Io dico, sì, 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 figurati. Anche se Genova da Biella era lontano, 180 km. Però era un altro mondo. Io pur di cambiare vita sarei andato anche a Pescasseoli. Cioè, sono andato giù e... Devo dire la verità, ho studiato poco. E colpa mia. Io ho cominciato... No, no, allora, io sono andato... Forse ero troppo bambino ancora per andare all'università. Per quello che dico che era troppo presto. Non ero abbastanza maturo. Io ho cominciato ad andare in queste aule enormi, che un pochino, se tu hai 18 anni e sei ancora un po' bimbo, ti fanno impressione. Però non è che l'ambiente fosse negativo. Anzi, erano tutti positivi, tutti carini come me, per carità. Una città che molti dicono che è in ospitale. Invece a me Genova è sempre piaciuta. Ho fatto subito amicizia con un po' di gente. Non ho mai avuto problemi lì. Però ho studiato poco. Facevo fatica. Non capivo. Andavo a lezione. Oh, ragazzi, c'erano delle lezioni di alcune materie. Io non capivo un cazzo. E dicevo, ma porco cane. Ero convinto di essere quasi intelligente. Io non capivo niente. Analisi. Ma sai che ancora adesso non ho capito di cosa parla? Ma cosa mi fate fare? Gli integrali. Per me erano ebbia. Non so. Forse al liceo non mi avevano preparato bene. Forse ero dei professori scarsi. Non lo so. Pur avendo i genitori, gli insegnanti, mio papà ingegnere. Beh, io non capivo niente. Sì, c'era l'esame di disegno che l'ho passato. L'esame di chimica perché mi piaceva e l'ho passato. L'esame di analisi non sono neanche andato a farlo perché non ero pronto. Eh, ma se tu non passi quello non vai avanti. Infatti ho fatto un anno e mezzo, due in tutto e sono venuto via. Lì, sempre per tornare al discorso, c'è qualcosa di cui ti penti? Beh, eh sì, non avevo finito l'ingegneria. Però, anche lì, non ho finito l'ingegneria, ma alla fine ho fatto una scuola di design e ho fatto il design per molta parte della mia vita. Quindi, com'è che si dice la porta e il portone, no? Cioè, non è che sono rimasto fancazzista. Dopo ho studiato, mi sono applicato su una cosa più o meno simile, nel senso che c'è sempre molta ingegneria nel design del prodotto, nell'industria design, e c'è un po' più di arte, un po' più di, non lo so, un po' più di fattore estetico, diciamo così. Per cui, una volta finita l'esperienza di genero, di ingegneria, perché io ho dovuto dire, guardate che io non vado avanti. I miei ci sono rimasti male, eh? Mio papà ci è rimasto male perché sperava che io diventasse ingegnere, però se io non ce la facevo, non ce la facevo. Ecco lì, un paio di calci in culo da mio papà, me li sarei aspettati, cioè, anche metaforicamente, se avessi insistito, forse adesso sarei lavorato, ma, coi sì e coi ma, e quindi, è andata così a me. Io sono contento, abbastanza, cioè, contento al 90%. Mi spiace aver dato questa delusione ai miei, perché poi io ho la pecora nera della famiglia che non si lavorava. Però, d'altra parte, ho fatto una scuola specialistica molto importante, è la scuola, una delle scuole più importanti d'Europa in quel genere, senz'altro la più importante d'Italia. Per cui, alla fine, sono contento così. Io a Genova ho conosciuto un amico, un caro amico, Walter, con cui ho condiviso tante avventure. Lui si è riscritto in ingegneria con me, ha smesso prima, era il mio vicino di, non di banco, di, sì, insomma, di sedile, e che tipo? Cioè, abbiamo fatto tutta una serie di cazzate, non cazzate grosse, ma tutta una serie di cose, di avventure, micro-avventure, col suo amico strano. Ti dico, un amico strano in casa, anziché un cane, aveva una gallina, ti dico solo questo. E niente, abbiamo condiviso tante cose, sono andato a suo matrimonio e aveva due genitori, Walter, che mi volevano un bene, mi volevano un bene nell'anima. Mi avevano preso quasi come un altro figlio, veramente delle persone d'oro. E niente, poi è ovvio che io tornando per un breve periodo a Biella e poi spostandomi di nuovo a Milano, finalmente in una città civile. No, beh, già a Genova era civile. In una città che era veramente una città, io poi ho abbandonato tante amicizie. Ho tenuto un po' l'amicizia con Walter, poi il tempo passa, come ho conservato l'amicizia col Paolo, con lo Stefano a Biella. E poi è ovvio che se non ci si vede e non ci si frequenta tutti i giorni, le cose cambiano. Dai, smetto qua questo video, poi magari ne giro un altro. e poi è un po' l'amicizia con un po' l'amicizia con un po' l'amicizia con un po' l'amicizia. Grazie. Grazie.